Passiamo ora alla trattazione delle interpellanze. Interpellanza 4021, bonifica del sito ex-selca Berzodemo. Primo firmatario è consigliere Violi, risponde poi l'assessore Terzi. Prego consigliere. Grazie Presidente. Parliamo di una storia che è abbastanza lunga nel senso che nel comune di Berzodemo in Valle Camonica dal 29 fino a pochi anni fa ha operato una fabbrica di produzione di elettrodi che poi si è trasformata in un'azienda che doveva trattare dei rifiuti pericolosi che venivano dall'Australia. Siamo riusciti a far lavorare l'Ucar Carbon che nel 1994, per chi non lo sapesse, è quella famosa della strage di Bhopal che poi nel 1994 ha ceduto a questa azienda la Selca che doveva trattare dei rifiuti speciali. Si parla di ceneri, di residui di demolizione di celle elettrolitiche, alluminio, metalli pesanti. Fondamentalmente nel 2009 gli investigatori intervengono e dimostrano che i rifiuti non venivano trattati come dovevano essere trattati ma venivano fondamentalmente abbandonati. Siamo vicino al fiume Olio, quindi la possibilità di inquinare anche un'intera valle. Addirittura quando c'è stato il sequestro giudiziario la Selca ha cercato di aprire una trattativa per la vendita della società con il gruppo Catalpano di Napoli, Catalpano che poi nel 2011 viene arrestato per tutte questioni legate al trattamento dei rifiuti. La nostra richiesta all'assessore è se ha aggiornamenti, quindi se il governo si è attivato per la messa in sicurezza perché era stato portato all'attenzione del governo dal deputato Caparini questa questione e quindi ci piacerebbe sapere a che punto siamo. Se è avvenuto invece l'incontro che era stato promesso anche a mezzo stampa tra l'assessore e il sindaco di Berzodemo, se la regione Lombardia si è prevenuta la richiesta del comune per l'intervento di messa in sicurezza, se la regione Lombardia è disponibile a fermire un supporto tecnico tramite ARPA e per ultimi punti sono se le risorse per la bonifica possono essere recuperate dalla Selca che è fallita nel 2010 o in caso contrario se la regione Lombardia ha intenzione di investire i soldi. Io avevo depositato verso fine aprile questa interpellanza e in realtà so che ai primi di maggio, se non sbaglio, c'è stata anche una conferenza di servizi all'Oster di Brescia, credo anche alla presenza dell'assessore, quindi al di fuori dell'interpellanza mi piacerebbe anche sapere se è possibile se ci sono stati aggiornamenti in seguito a questo incontro. Grazie consigliere, la parola per la risposta all'assessore Terzi, prego. Sì, grazie consigliere. Partendo dal fondo, alle conferenze di servizi partecipano i tecnici e quindi non i politici, quindi l'assessore non ci ha dato, ma le do comunque riferimento e reso conto di quello che è successo. Ora, piccola introduzione ma brevissima, come diceva lei, la Selca SPA che eredita la gestione di questo impianto produttivo fallisce nel giugno del 2010. Nel corso del 2011 Arpa Lombardia, il dipartimento della Valle Camonica, evidenziava appunto che c'era una situazione impiantistico-logistica priva dei requisiti caratteristici assicurati dalle basilari misure di messa in sicurezza e quindi segnalava a Arpa la necessità di procedere con sollecitudine sia alla rimozione che allo smaltimento di tutti questi rifiuti che teoricamente devono essere smaltiti secondo quella che era l'attività e che invece non avevano preso questa via. La conferenza dei servizi indetta dal Comune di Versodemo in data 18-10 del 2011 ha stabilito che sarebbe stato lo stesso Comune nell'esercizio delle competenze che gli sono attribuite dalla norma statale a procedere in via sostitutiva alla predisposizione del piano di messa in sicurezza in caso di inerzia della curatela fallimentare. Successivamente a questa conferenza dei servizi, il curatore comunicava formalmente la decisione di non avviare l'intervento di messa in sicurezza rimandando quindi al Comune l'onere di tale intervento ed indicando nella garanzia fidei ussoria esistente la copertura delle spese necessarie. Con atto del 19 maggio del 2012 il Comune comunicava poi di aver avviato il procedimento di messa in sicurezza dei rifiuti giacenti nel sito in via sostitutiva rispetto appunto alla società e in particolare alla curatela fallimentare che si era palesemente dichiarata insomma non intenzionata ad attivarsi in questo senso. Con nota in atti regionali del 15 aprile del 2013 il Comune ha poi trasmesso alla Regione il progetto invece di messa in sicurezza con tutti gli allegati e l'importo complessivo vale qualcosa come 385 mila euro. La Regione ha ovviamente poi dato il via a tutta la procedura per l'escussione forzosa della polizza fidei ussoria questo con atto del primo agosto del 2013 con atto e decreto che è stato notificato prima all'Aurora Assicurazione SPA poi alla Unipol nell'agosto del 2013. La Regione poi ha notificato lo scorso 3 aprile del 2014 alla Unipol intervenuta appunto per l'Aurora Assicurazioni invece un atto di ingiunzione proprio per il pagamento in favore della Regione Medesima della somma di 385 mila euro che sono i soldi, la somma prevista appunto dal piano di messa in sicurezza fatto redatto dal Comune di Berzodemo di fatto per iniziare per procedere in questo senso. Venendo nello specifico alle risposte alle domande che ci ha sottoposto la messa in sicurezza del sito è in corso senza un'attività specifica del Governo nel senso che il Governo nulla ci ha chiesto, nulla ci ha detto e qui siamo a disposizione. A partire invece dallo scorso luglio fino ad oggi sono effettivamente stati diversi gli incontri sia ufficiali quindi svolti tra le parti politico-istituzionali quindi tra il Sindaco del Comune di Berzodemo, vari membri del Consiglio regionale l'ultimo solo in ordine di tempo mi ricordo con la Consigliera Martina Zoli. In ognuna di queste occasioni il confronto si è concentrato prima di tutto sul valutare qual è lo stato dell'area in questione e in particolare con quelle che sono le conseguenze ambientali e le possibili e future eventuali conseguenze ambientali in caso di protratte inattività da parte di quello che è di fatto non tanto il proprietario quanto senza dubbio il legittimo possessore di quest'area che è la curatela fallimentare dalla quale onestamente ben poca collaborazione si riesce ad ottenere. Una volta individuate le criticità poi abbiamo discusso delle priorità di intervento e delle modalità, quindi delle strade migliori da percorrere per fare in modo di arrivare ad un risultato rendendoci ribadisco conto da una parte delle difficoltà eventualmente del Comune che è tipico di tutti i Comuni di sostituirsi ad un eventuale soggetto inadempiente non tanto per mancanza di voglia o inattività dell'istituzione quanto dalle difficoltà poi di escutere una fideiussione ma ancora più di utilizzare i soldi eventualmente escussi dalla fideiussione perché il patto di stabilità interviene anche in questo caso e dall'altra appunto comunque dalla necessità di dover intervenire perché i rifiuti ci sono e non vorremmo evitare che la situazione ovviamente peggiorasse. Il 5 di marzo del 2014 il Comune di Berzodemo ha indetto poi una conferenza di servizi proprio per valutare le soluzioni tecniche e amministrative più idonee al fine di prevenire ovviamente i rischi di contaminazione. In quella sede è stata ribadita la necessità di provvedere urgentemente alla messa in sicurezza d'emergenza del cumulo dei rifiuti sia all'interno che all'esterno dei capannoni anche perché una parte dei capannoni era stata scoperchiata da recenti eventi appunto non so se è una tromba d'aria ma comunque di questo tipo. Ovviamente poi a un intervento di messa in sicurezza necessariamente dovranno seguire delle attività invece definitive che attengono alla rimozione poi di tutti ovviamente i rifiuti. Gli enti territoriali coinvolti quindi il Comune, la provincia e la Regione hanno poi concordato sulla necessità di emettere un'apposita ordinanza finalizzata a imporre al curatore fallimentare tutti gli interventi necessari per evitare ulteriori pregiudizi ambientali e igienico-sanitari. La realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dei rifiuti, la rimozione delle coperture dei capannoni in cemento a mianto e la predisposizione del piano di rimozione di tutti i rifiuti presenti sull'area. Ribadisco però, la curatela si fa forte di una serie di sentenze e quindi cita una giurisprudenza pressoché unanime che ritiene che queste attività anche se legate alla proprietà non attengano o non siano in alcun modo non possono dipendere o non possono essere in alcun modo imputate alla curatela medesima. Questa cosa crea da un pochi problemi in una situazione già abbastanza complicata con la piccola particolarità che questo è uno dei pochi fallimenti capienti a quanto pare nella storia dell'Italia e nonostante questo sembrerebbe che il comune o chi per il comune dovesse sostituirsi, anticipare gli eventuali soldi e poi iscriversi di fatto al fallimento in attesa che qualcuno gli rimborsi dei soldi. Mi pare una cosa folle considerando che il curatore si sostituisce a quello che è il fallito ma a quanto pare non per tutte le responsabilità. Con ordinanza numero 2 del 12 marzo 2014 il sindaco del comune di Berzodemo ha ordinato al curatore fallimentare della SELCA S.P.A. di provvedere entro 60 giorni a tutti gli interventi prioritari per evitare ulteriori degradi in primis la messa in sicurezza dei rifiuti e di disporre entro 150 giorni il piano di rimozione di tutti i rifiuti presenti sull'area. Nello stesso giorno con l'ordinanza numero 3 il sindaco ha ordinato al curatore di provvedere entro 120 giorni alla rimozione delle coperture di cemento a mianto dei capannoni. Il 7 maggio del 2014 si è svolto un incontro convocato dalla provincia a seguito della richiesta appunto del comune a cui hanno partecipato i rappresentanti degli enti e della società SELCA. Le conclusioni sono le seguenti. Regione Lombardia si è impegnata a dare copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza o attraverso la garanzia finanziaria o con finanziamenti regionali. Quindi la messa in sicurezza trova copertura nella strada. Noi di fatto abbiamo intrapreso entrambe le strade. Vuoi quella dell'intervenire sulla curatela, dall'altra quella invece di escutere la fideiussione per avere in un modo o nell'altro la messa in sicurezza verrà realizzata. La Regione si è poi impegnata a valutare la copertura dei costi per le successive azioni di messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti a seguito dell'avvio dell'intervento sostitutivo previsto dalla norma. La provincia di Brescia invece sulla base dell'avvenuta comunicazione di ARPA procederà ai sensi dell'articolo 244 del 152 per identificare il responsabile per al fine poi di emettere l'ordinanza di diffida per procedere alla bonifica del sito. Ovviamente nel frattempo continuano i rinnovi al curatore fallimentare relativo alla richiesta di effettuare un intervento diretto. In questo senso io ho dato indicazione ai miei funzionari anche di interessare direttamente il Presidente del Tribunale, quantomeno il Presidente della sezione fallimentare che in qualche modo ci chiarisca appunto quelli che sono i limiti della responsabilità e quindi della possibilità di intervenire del curatore in un fallimento che ribadisco forse una delle poche volte nella storia dei fallimenti in Italia sembra essere capiente. Grazie Assessore. Prego Consigliere Violi per la replica a tre minuti. Sarò brevissimo in realtà. So che il Dottore Elefanti era presente alla conferenza di servizi e non l'Assessore. Mi è sopraggiunto dopo. Comunque ringrazio per l'esposizione che è stata chiara e molto dettagliata. La speranza è che si mantenga altra attenzione e si possa chiudere un problema che il territorio vive come grave perché grave è. Purtroppo si è rincorso negli anni tutta una serie di accadimenti e di difficoltà quindi davvero quello che chiedo all'Assessore ha dato una risposta chiara e dettagliata che si prosegua puntando riflettori sulla situazione che si risolva nell'interesse dei cittadini. Grazie.